buongiorno cari trader buongiorno ben ritrovati come vedete il nostro progetto quello insomma che vi vuole condurre a essere dei trader non si ferma neanche in queste giornate per quel che mi riguarda c'eravamo salutati con un appuntamento che trattava uno degli strumenti finanziari che avevamo visto in quella che io definisco una panoramica sugli strumenti a nostra disposizione per l'attività di trading c'eravamo lasciati appunto con gli indici azionari gli indici di borsa quindi direi che è doveroso adesso trattare le azioni qualche modo l'argomento è già stato portato avanti quando avevamo proprio effettuato la panoramica ma soprattutto quando avevamo introdotto la differenza la distinzione fondamentale tra due figure quella del trader e quella dell'investitore due figure che abbiamo definito diverse ma in un certo qual modo simili nel momento in cui si introducono concetti fondamentali in entrambe le attività concetti come prezzo tempo una relazione molto importante che spesso a seconda dell'operatività che decidiamo di intraprendere possono portare le due figure ad avvicinarsi a diventare una cosa sola abbiamo detto che a volte anche commettendo degli errori si può diventare investitori piuttosto che trader per quale motivo ricorderete che insomma si era parlato anche del concetto di perdita spesso quando si entra in una posizione si sceglie di operare in un determinato strumento senza aver ben chiaro inizialmente come gestire il rischio ecco che a quel punto proprio per errore si lascia correre la perdita e magari si arriva ad essere investitore ma sbagliando per quale motivo abbiamo detto che uno degli elementi fondamentali per cercare di gestire al meglio il rischio e l'utilizzo dello stop questo è un concetto che tratteremo più avanti e sul quale batterò tantissimo perché a mio modo di vedere è imprescindibile per portare avanti un'attività di trading sana e profitevole il nostro il nostro desiderio è quello appunto di rendervi autonomi certo di fare in modo che questa attività magari da passione possa diventare anche qualcosa di più possa diventare magari un lavoro oppure una fonte di reddito che vada a integrare il vostro lavoro principale e per raggiungere questi obiettivi oltre a una formazione di qualità che speriamo di potervi garantire i riscontri che stiamo ottenendo da questo punto di vista sono sono eccellenti ecco poi però voi necessariamente dovrete metterci del vostro dovrete impegnarvi per raggiungere degli obiettivi vi ho detto proprio che la gestione del rischio è qualcosa che ci deve portare a diventare dei trader profittevoli dobbiamo essere in grado di gestire il rischio e se ricordate quando abbiamo trattato l'argomento la distinzione tra le due figure appunto il trader e l'investitore abbiamo parlato di azioni abbiamo trattato l'argomento delle azioni perché le azioni rappresentano uno degli strumenti fondamentali per l'investitore la differenza sostanziale è che spesso l'investitore fa una cernita degli strumenti da utilizzare per il proprio investimento degli strumenti insomma dove andare a investire il proprio denaro e queste scelte talvolta possono anche richiedere delle settimane delle settimane che portano il l'investitore a strutturare un portafoglio che possa durare nel tempo e come detto il concetto del tempo è fondamentale quindi vanno eseguite tutta una serie di analisi che ci permettano di fare una cernita di quelli che sono i titoli azionari magari migliori per la nostra attività negli ultimi decenni con insomma il progredire dell'informatizzazione l'ingresso in campo dei broker quindi di intermediattori finanziari che ci consentano di operare con determinati strumenti le azioni rivestono un ruolo importante nell'attività di trading perché possiamo speculare e vi invito a rivedere magari i live anzi le registrazioni precedenti proprio per farvi un'idea di che cosa significa speculazione cos'è il movimento di prezzo perché noi andiamo proprio a speculare sui movimenti di prezzo ecco anche le azioni da questo punto di vista oggi rappresentano uno strumento uno strumento fondamentale ora io non non dico che bisogna necessariamente passare delle settimane per analizzare al meglio la società che vi mette a disposizione appunto il singolo titolo azionario da acquistare ecco potrete farlo assolutamente anzi il consiglio che do sempre a chi intraprende questa attività l'attività di trading è quella di utilizzare il connubio tra analisi tecnica e analisi fondamentale ecco scusate il gioco di parole ma ho la ripetizione ma è fondamentale conoscere l'analisi fondamentale perché nel momento in cui noi andiamo ad operare su un singolo titolo azionario capite bene che è meglio magari conoscere quelli che sono gli elementi fondamentali di una società quotata in borsa allora a questo punto vi starete domandando che cos'è un'azione che cos'è un singolo titolo azionario diciamo che quella di oggi sarà più che altro una pillola perché abbiamo visto il concetto e possiamo dire che a livello proprio di attività di trading non è richiesto andare così in profondità nell'argomento poi ovviamente avrete tutto il tempo a disposizione per approfondirlo magari se siete curiosi voi stessi io oggi cercherò proprio di consegnarvi una pillola che vi possa aiutare a capire quello che state facendo quando scegliete di far trading su un singolo titolo azionario è chiaro che avrete sentito parlare sicuramente di azioni le abbiamo anche menzionate vi ho già detto che cos'è perché le azioni le possiamo definire come una singola parte unitaria in cui è suddiviso il capitale appunto delle società per azioni nel momento in cui voi andate a far trading decidete di acquistare un titolo azionario state diventando a tutti gli effetti i titolari di quell'azione quindi possiamo dire che idealmente possedete una piccola fetta più o meno consistente questo chiaramente dipende da voi da quante azioni volete comprare di quella società e quindi questo comporta che siate titolari di tutti i diritti e di tutti gli oneri come detto con l'informatizzazione con l'avvento delle piattaforme di trading le cose sono cambiate perché adesso seduti comodamente davanti allo schermo del vostro pc basta cliccare sul mouse avendo una piattaforma di trading aperta e potete tranquillamente speculare anche sui singoli titoli azionari quindi il mondo anche dell'azionario è cambiato perché non dovete più magari andare in banca a sedervi allo sportello con l'impiegato che vi propone di comprare totazioni di quella società adesso lo potete fare da casa e potete addirittura come detto speculare sui singoli titoli le azioni le possiamo anche definire come come un titolo di credito appunto perché perché incorporano un diritto e ne facilita la trasmissione ad altri soggetti queste sono definizioni che trovate anche nel sito della della consob tranquillamente la cosa importante da sottolineare è che chiaramente noi andiamo a speculare sulle azioni quotate perché poi ovviamente ci sono anche le azioni non non quotate abbiamo parlato di diritti e di oneri quali sono questi diritti allora sostanzialmente dobbiamo dire che nel momento in cui appunto andate ad acquistare un'azione potete percepire quelli che in gergo tecnico vengono definiti dividendi avrete magari sentito parlare anche se siete le prime armi dallo stacco dei dividendi ecco se diventate possessori di un'azione potete usufruire potrete usufruire dei dividendi potrete percepire appunto i dividendi qualora chiaramente fossero distribuiti dalla società poi potrete consultare i libri contabili libri sociali eccetera eccetera insomma questi sono tutti i diritti che ogni azionista nel momento in cui entra a far parte appunto della società nel momento in cui acquista una parte più o meno consistente del capitale di quella società e ricorderete che quando abbiamo parlato dei titoli di borsa abbiamo parlato proprio di capitalizzazione oppure di quotazione in base al prezzo e abbiamo detto che la stragrande maggioranza insomma le quotazioni avvengono appunto per capitalizzazione allora diciamo un'altra cosa molto importante che quando facciamo trading su azioni abbiamo e questa è una peculiarità attenzione questo è bene è bene che lo sappiate abbiamo parlato di peculiarità per il forex ecco questa è una propria una peculiarità dei titoli azionari ovvero quella di ricevere appunto dei dividendi ma che cosa sono fondamentalmente sono una parte dei profitti quindi la nostra parte nel momento in cui appunto acquistiamo l'azione dei profitti che è capace di realizzare quella azienda profitti che solitamente vengono elargiti due volte due volte all'anno e quindi se in un particolare periodo voi decidete di acquistare quell'azione ecco che magari se siete appunto all'interno del mercato potrete addirittura usufruire dello stacco del del dividendo attenzione perché non dipende solo ed esclusivamente dai profitti aziendali ma poi entrano in campo anche i vertici societari che saranno appunto in grado di scegliere di decidere quale sarà appunto il dividendo da offrire al proprio azionista cosa possiamo aggiungere altro vi potrei fare degli esempi diciamo che nel momento in cui voi state appunto acquistando un titolo azionario si presuppone che comunque abbiate fatto delle considerazioni a monte quello che mi sento di dirvi detto che i concetti che vi ho espresso sono proprio quelli fondamentali per poter operare su questo tipo di mercato il consiglio che mi sento di darvi ovviamente è quello di approfondire il più possibile la struttura della società non limitatevi solamente ad osservare il grafico e quindi alla nuda e cruda analisi tecnica certo non vi dico che non serve anzi assolutamente c'è chi opera con profitto anche sui titoli azionari dedicandosi esclusivamente all'analisi tecnica però mi sento anche di dirvi che se conoscete proprio la struttura di quella società è meglio perché sarete in grado anche avendo ben chiaro l'andamento della società quindi lo stato anche di salute di quella società nel tempo di capire se nell'arco temporale che vi siete prefissati sarà in grado o meno di darvi appunto la possibilità di ottenere dei profitti stiamo parlando sempre di trading quindi tenete conto che se finora abbiamo parlato di acquisto di azioni la speculazione può essere fatta anche con una vendita allo scoperto quindi potete anche venderlo quel titolo azionario non dovete necessariamente solo acquistarlo è ovvio che se lo state acquistando è perché state presupponendo che in tutto tempo il valore della singolazione cresca viceversa se state vendendo è perché credete che magari quella società andrà incontro per qualsiasi motivo a qualche difficoltà e quindi avverrà una svalutazione del titolo azionario ecco questa è fondamentalmente l'attività di trading che noi facciamo sui titoli azionari poi come vedremo all'interno delle piattaforme di trading e qualcosa ve l'avevo già fatta vedere se ricordate nelle prime puntate troverete tutta una serie di titoli azionari a seconda del broker chiaramente avrete la possibilità di tradare i titoli azionari italiani avrete la possibilità di tradare i titoli azionari americani oppure quelli tedeschi oppure quelli francesi insomma gli strumenti che avremo a nostra disposizione saranno sicuramente tantissimi e ripeto il consiglio che vi do è non andate necessariamente a tradare tanti titoli azionari così a casaccio oppure semplicemente basandovi sull'analisi tecnica che è certo è sicuramente imprescindibile però meglio fare una cernita dedicarsi magari a pochi titoli azionari magari anche soltanto uno quello che voi ritenete più opportuno investire, tradare su quello e vedere appunto se il risultato arriva a tal proposito vi ricordo che avete anche la possibilità con tanti broker di provare proprio a trattare questi strumenti affidandovi a un conto demo e quindi non necessariamente con soldi reali e ricordatevi è importantissimo poter iniziare magari con un conto demo perché vi dà la possibilità di capire qual è il meccanismo che regola il trading su determinati strumenti di contro non vi dà insomma quelle motività che vi può assicurare un conto in reale perché poi lì entrano in gioco tutta un'altra serie di componenti ma come detto l'aspetto psicologico è un qualcosa che andremo a trattare più nel dettaglio nelle prossime puntate e state pur certi che insomma ne faremo diverse perché come ho detto inizialmente la psicologia non dico che sia tutto ma rappresenta più del 50% dell'attività di trading addirittura qualcuno sostiene che rappresenti il 70% e poi la restante parte sia fatta da altre componenti come ad esempio la strategia ma ripeto questi sono altri argomenti io direi che per oggi è tutto vi invito a seguire le prossime puntate perché andremo a trattare altri due strumenti finanziari molto importanti le materie prime e non ci limiteremo a parlare soltanto delle più conosciute come l'oro, l'argento, il petrolio ci sono tante altre materie prime vi potrei fare ad esempio della soia dello zucchero, del cotone, del cacao all'interno delle quali subentrano altre componenti molto importanti che dobbiamo necessariamente conoscere quando andiamo a tradarle e poi parleremo anche delle obbligazioni altro argomento molto 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 importante perché lì inizieremo anche ad adentrarci all'interno di concetti di macroeconomia che si rivelano essenziali in ogni giornata di trading io per ora vi saluto l'appuntamento è con la prossima registrazione di SL Trader buona giornata